Ciao a tutti e bentrovati. Oggi Chiesa Livorno Informa vi accompagna a conoscere la comunità di San Simone nel quartiere di Ardenza. Ma prima ascoltiamo Monsignor Giusti che ci parla della festa del Corpus Domini. Monsignore, qual è il significato della festa del Corpus Domini? La festa del Corpus Domini si impone alla Chiesa al seguito di tutta una serie di eventi miracolosi. Di per sé ogni domenica è Corpus Domini, ogni domenica è Pasqua, ogni domenica si celebra l'Eucharistia, ogni domenica è la festa dell'Eucharistia. Il Corpus Domini nasce a seguito di una richiesta popolare perché avvennero con lo stesso Papa, prima quando era Vescovo in Belgio e poi da quando diventò Papa, tutta una serie di fatti miracolosi. Il miracolo che avvenne in Belgio sulle specie eucaristiche che furono venerate addirittura, c'è un esempio, un fatto eclatante, simpatico, in cui addirittura gli animali al passaggio dell'Eucharistia si volevano tutti inchinare di fronte alla Santissima Eucharistia. Fu un fatto che distò, siamo nel 1200, un clamore enorme in tutta Europa. Lo stesso Papa poi, venuto a Roma, ecco che partecipò e fu testimone del miracolo di Bolzena che è conservato nella grande cattedrale di Orvieto, quando il pane spezzato, ecco, trasidò sangue e macchiò il corporale. Al seguito di questi eventi miracolosi e di tanti altri che erano avvenuti e da cui poi sono scaturite tante, tante devozioni, ecco che si sente il bisogno nella Chiesa di celebrare questa festa del Corpus Domini. È una festa popolare, è la domenica in cui si fanno i tappeti di fiori, è la domenica in cui, come domenica scorsa in Via Grande, che è stata una cosa molto bella, hanno fatto cadere i fiori dall'alto, i petali di rose dall'alto. E' un omaggio grande a chi è? Al corpo di Cristo. La festa del Corpus Domini non è portare un quadro, un'immagine per le vie della città finché benedica la città, ma è Cristo stesso che attraversa le nostre strade per benedire tutti noi. Perché è importante la benedizione? Perché, vedete, in misura in cui te apri il cuore a Dio, apri il cuore alla comunione, all'unità, alla concordia. Ce ne sarà bisogno di unità di concordia, di intelligenza, di creatività qui a Livorno, certamente. Quello che ho sempre detto che ormai, fino alla noia, Livorno deve imparare a smettere di litigare a tutti i livelli e imparare invece a far squadra. Imparare a far squadra, a far squadra affinché si possa dare casa e lavoro ai tanti. Sono stati pubblicati nuovi dati sul crescere delle povertà a Livorno. Ma come si può far fronte a tutto questo? Litigando? Basta. Facendo promesse? Criticando il passato? Dicendo che quelli prima di noi non capivano nulla? Basta. Basta. Bisogna vedere operatività ora qui, concordia, per poter portare lavoro e casa, pane per tanti. Ma ci vuole concordia. Non basta dire quelli prima di noi hanno fatto chissà che cosa. Voglio vedere cosa fai te, cosa fa ciascuno di noi. Nel suo piccolo, nel suo grande, ognuno di uno deve essere operativo e ognuno deve fare il massimo dovunque è. In porto, come in un negozio, come in un ruolo impiegatizio, ovunque. Deve dare il meglio di sé, ma in maniera propositiva, non denigrando l'altro, ma facendo vedere la sua capacità costruttiva. La città ha bisogno di creatività affinché possa dare lavoro e pane a tanti. Don Annibale, è qui da poco tempo. Puoi descriverci un po' questa comunità di San Simone? Io sono arrivato qua proprio, sarà un anno, un anno fa, il 2 giugno del 2015. E quindi è una comunità in certa forma, dal punto di vista pastorale, liturgico, spirituale, morto altiva, partecipano tantissimo. È una delle chiese, penso io, più frequentate nella liturgia. Durante questo anno io ho insistito innanzitutto di celebrare questo profondo mistero della nostra esistenza nel sacramento dell'Eucaristia. Ci raduniamo quotidianamente, ma innanzitutto la domenica che celebriamo tre mesi, dove ci troviamo col Signore come corpo mistico di Cristo, come popolo di Dio, come assemblea liturgica, naturalmente chiedendo la forza, la luce per poter portare avanti sempre la situazione della parrochia. È una comunità partecipata innanzitutto per persone della terza età, no? E quindi manca la presenza effettivamente dei giovani. Ho voluto riprendere la pastorale con i bambini, no? Quindi stanno frequentando tanti bambini. La domenica nella Messa delle Dieci ho dato la possibilità che loro devono partecipare innanzitutto nelle letture della parola del Signore, nelle preghiere che fanno dei fedeli. E innanzitutto quando diciamo il Padre nostro salgono sull'altare, facciamo un circolo intorno all'altare perché l'altare rappresenta la presenza di Cristo che è vivo e ugualmente il simbolo del Monte Calvario e quindi ci siamo praticamente intorno a Gesù Cristo che è la nostra forza, la nostra luce, la nostra speranza. E grazie a questa esperienza innanzitutto liturgica del Sacramento dell'Eucaristia perché è quello che sostiene la Chiesa, la comunità praticamente vive in una grande serenità, una grande calma, una grande speranza con la possibilità naturalmente di proseguire sempre avanti in questa missione che il Signore ci ha affidato a tutti noi perché il parroco è soltanto un punto di riferimento. La parrocchia, la famiglia parrocchiale come io la chiamo così, siamo corresponsabili di portare avanti tutta praticamente la nostra missione nella Chiesa specificamente del Livorno in questa comunità parrocchiale dedicata a San Simone ed Immacolata Concezione. Lei è originario della Colombia, cosa ha portato qui della sua terra? Della mia terra per innanzitutto la nostra spiritualità. Il sudamericano è una persona molto molto calda, noi viviamo innanzitutto il senso profondo della famiglia, ci teniamo a questo, l'amore dentro della famiglia, l'amore praticamente tra i genitori, tra i fratelli, i sorelle eccetera eccetera. E quindi ciò che noi viviamo profondamente nella vita quotidiana è questa comunione familiare, la gioia, la felicità che noi viviamo innanzitutto nel nostro folclore sudamericano. In Colombia praticamente come in quasi tutta Sud America non c'è praticamente il senso della vita senza la musica, senza il ballo, senza il carnevale e senza danzare. E quindi ci si vive una grande gioia, una grande felicità, una grande letizia perché questo è ugualmente la vita che è attiva, che cresce quotidianamente. E ho voluto portare in certa forma un po' di allegria di questa presenza dei bambini. Per esempio durante il Natale i bambini hanno potuto partecipare cantando certi cantici proprio del Natale che tra noi si chiamano biglianzicos, in cui si caratterizzano innanzitutto per una grande dinamicità in questi canti. E' questa gioia che si augura per la sua comunità? E' questo effettivamente ciò che noi dovremmo vivere profondamente. Il cristiano deve essere un cristiano così che viviamo le prove, le difficoltà, le sofferenze. Dobbiamo vivere questo grande gaudio, questa grande gioia, questa grande letizia perché Cristo è nel nostro cuore e Cristo ugualmente ci sostiene. Se Cristo ci sostiene a portare avanti la nostra missione, la nostra vita, la nostra croce, sempre dovremo vivere questa grande gioia, questa grande felicità perché tutto ciò è possibile, come dice San Paolo, in Cristo che fortifica la nostra vita. E adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana. Domenica 29 maggio alle 18 i Vespri solenni del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo preseduti da Monsignor Giusti nella piazza Barontini davanti alla chiesa di San Sebastiano a seguire la processione verso la cattedrale e la benedizione. Lunedì 30 maggio alle ore 11 la Santa Messa è in occasione del ritiro regionale dell'Apostolato della Preghiera al Santuario di Montenero. Martedì 31 maggio alle 21.15 la processione della Madonna del Buon Rimedio dalla chiesa di San Ferdinando al Porto. Mercoledì 1 giugno alle 18 la Santa Messa per l'accoglienza della Madonna Pellegrina di Fatima alla chiesa di Santo Stefano a Castelnuovo della Misericordia. Infine venerdì 3 giugno alle 9.30 al Santuario di Montenero la giornata sacerdotale con celebrazione eucaristica per la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Grazie per essere stati con noi, grazie al nostro operatore Giancarlo Belais e ci rivediamo tra 15 giorni con una nuova trasmissione ed una nuova parrocchia. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!